Un sospiro di sollievo per i paesi europei con i conti in ordine. L'Unione Europea ha annunciato che nei loro confronti sarà concessa più flessibilità, a cominciare proprio dall'Italia. In sostanza, i paesi con i conti sotto controllo potranno sfiorare il tetto al deficit per finanziare investimenti che rilancino la crescita. Si tratta di progetti cofinanziati da lui nell'ambito della politica strutturale e di coesione delle reti transeuropee e della Connecting Europe Facility con un effetto nel lungo termine positivo, diretto e verificabile sul bilancio. Esulta il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, che su Twitter scrive «ce l'abbiamo fatta». Immediate le reazioni positive dal mondo della politica dal PD, Francesco Boccia e Matteo Collaninno sottolineano il successo del governo Letta. Nel PDL è soddisfatto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi.